Ciao, bentornati su Metalurbex. Oggi siamo a Portis, vecchia, paesino abbandonato della Carnia. Siamo tra Tolmezzo, Amaro, Venzone, Gemona. Dunque, questo paesetto qua è stato abbandonato un po' di anni fa, penso anche questo durante il terremoto. Adesso facciamo una camminata fino giù, vediamo cosa c'è di interessante. Intanto facciamo un videtto di presentazione. Adesso vado in giù e dopo ci risentiamo.